Furto notturno alla farmacia Baraldi di Bizzozzero, di proprietà degli eredi del dottor Ivo Baraldi, una delle farmacie storiche più conosciute e antiche del capoluogo. I malviventi hanno forzato la sala cinesca e spaccato le porte interne, peraltro appena sostituite. Hanno portato via quanto contenuto come fondo cassa e causato parecchi danni. La farmacia si trova a pochi metri dall'abiticino e proprio di fronte alla scuola elementare Marconi. È suonato l'allarme e i malviventi sono fuggiti. Giovedì scorso in prefettura è stato segnato il patto antirapine dopo la serie di furti e rapine dei mesi scorsi avvenuti in più punti sia nel capoluogo sia in comuni della provincia. Il patto è stato siglato tra prefettura, forze dell'ordine, federfarma e ordine dei farmacisti. Il potenziamento dei controlli sul territorio è già cominciato nei mesi scorsi con il rinforzo delle pattuglie davanti alle farmacie in varie ore della giornata e della notte.